A Caltagirone la vicenda social housing scuote i consiglieri comunali d'opposizione che nella giornata di stamani muniti di pettoline e caschi in uso nei cantieri e incatenati simbolicamente hanno riacceso la miccia di una protesta che da circa un anno ha scatenato reazioni politiche in consiglio comunale non solo. Il nostro dissenso su quello che abbiamo definito una vera e propria porcata. A distanza di un anno non soltanto i lavori non sono partiti ma attraverso una delibera di consiglio votata da appena otto consiglieri di maggioranza si è deliberato. Dal centro storico l'investimento è stato spostato ai lotti G e H di via Madonna della Via che tra l'altro non sono nella disponibilità della società in quanto su questi immobili pesa una ipoteca e anche un procedimento fallimentare. I manifestanti hanno denunciato il mancato avvio dei lavori di questo programma di investimenti pubblico e privato per circa 15 milioni di euro dalle cui somme si dovevano realizzare inizialmente 33 alloggi a canone sostenibile e opere di urbanizzazione oltre una caserma per il commissariato di pubblica sicurezza ma che oggi ha già una sede. Che è il primo anniversario dalla consegna dei lavori il 21 dicembre 2018 eppure il comune di Caltagirone utilizzando le risorse pubbliche ha già dato alla ditta Caltagirone Social Housing ben 1.160.000 euro la concessione edilizia è scaduta il 20 dicembre del 2019. E' grave che si facciano gli interessi di carattere estraneo a quelli che sono gli interessi pubblici. L'abbiamo definita una porcata perché si tradisce quello che è l'interesse del nostro centro storico. I consiglieri d'opposizione hanno insomma contestato le rimodulazioni al progetto attuate dall'amministrazione comunale. L'investimento originariamente prevedeva la ristrutturazione dei palazzi Ingressi e Lanzirotti alle cui zone si riferiscono le immagini e di Palazzo Spadaro di via Luigi Sturzo. Nel secondo caso l'amministrazione ha optato per il recupero di uno stabile di via Madonna della Via. Da qui un secondo motivo di contestazione. Con questo gesto noi vogliamo evidenziare l'assenza dell'azione amministrativa, evidenziamo l'assenza del sindaco, assenza amministrativa, assenza di scelta amministrativa. L'aggiunta non si è mai espresso sulla delocalizzazione dell'intervento dal centro storico alla periferia della città. Come non si è preoccupato di sollecitare gli interventi in questo edificio alle mie spalle, che era l'unico che poteva essere oggetto dell'intervento materiale. Dagli uffici di competenza del comune di Caltagirono hanno intanto comunicato che i lavori del social housing non hanno avuto inizio per lo stabile di Palazzo Ingressia, in quanto in attesa del necessario nulla ossa da parte del genio civile. Ciò per via di una variante strutturale disposta dai progettisti della società che deve realizzare l'opera. Un altro dato allarmante è il silenzio stampa del sindaco e anche di molti consiglieri comunali. E tra l'altro ci è stato negato la possibilità di costituire una commissione speciale di inchiesta proprio sul social housing. Però guarda caso poi proprio il Presidente del Consiglio con il gruppo a cui lui appartiene presenta un esposto in procura che anche noi come gruppo di opposizione abbiamo presentato un corposo esposto in procura proprio per fare chiarezza su questa strana vicenda.